Allora comincerei con il quarto viluppo. Si può parlare di selvaggio solo quando viene istituita e resa operativa la macchina concettuale che lo separa da ciò che selvaggio non è. Il che assume esistenza concreta con l'imporsi su larga scala dell'agricoltura e dell'allevamento. Praticamente tutti concordano che tale evento ha una portata maggiore nella storia dell'umanità e in generale nella storia dell'intero pianeta. Si tratta infatti di una modificazione radicale degli atteggiamenti e dei comportamenti degli umani nei confronti dei vegetali, degli animali, come anche nei riguardi degli esseri inanimati. Le piante ora sono selezionate e coltivate. Gli animali vengono sottomessi innanzitutto mediante il controllo della riproduzione. Tutto è finalizzato alla produzione e all'incameramento di cibo. Così anche le cose finiscono per essere considerate in un'ottica completamente diversa. Si tratta infatti di un sovvertimento simbolico ideale, oltre che materiale. Le due realtà non vanno disgiunte. Si dice che i cacciatori e i raccoglitori vennero a poco a poco resi marginali, sostituiti e confinati in zone sempre più inospitali, dall'espandersi degli insediamenti agropastorali. Ma bisogna sottolineare che questo processo non è stato affatto lineare quanto piuttosto segmentato, diluito nel tempo e nello spazio. All'inizio limitato soltanto a certe regioni geografiche, per poi diffondersi in modalità più ampie ed incisive, sebbene intermittenti, specie in Europa, in aree sempre più complesse. A questo proposito si parla di mobilità complessa. Si pensa ad esempio alla prima domesticazione animale, quella del cane. Ebbene, il cane domestico, domesticato dal lupo, come sapete, scrive Graham Barker, faceva probabilmente già parte delle tecnologie di caccia del tardo pleistocene. Molti dei raccoglitori del primo oloceano in Europa praticavano forme di comportamento che lasciavano presagire i sistemi di allevamento di animali e piante dell'agropastoralismo euroasiatico, molto prima di entrarvi in contatto. Se è vero allora che il neolitico viene annunciato dal passaggio dell'umanità alla sedentarizzazione, Occorre tuttavia ricordare che tale processo lo si può osservare già in alcuni esperimenti tentati dai calciatori e raccoglitori del paleolitico, intorno a 25.000 anni fa, nonché in tempi più recenti, vale a dire nel tardo paleolitico. Esperimenti che poi furono lasciati cadere, e questo è un aspetto quanto mai interessante, perché vuol dire quanto meno che non necessariamente la sedentarizzazione, unita alla coltivazione di particolari cereali, conduce all'instaurarsi di una civiltà agricola. Non dobbiamo vedere l'instaurarsi dell'agricoltura come una fatalità inevitabile. Molti ricordano che gli aborigini australiani, per esempio, non l'hanno mai adottata. Non c'è una via naturale all'agricoltura, anche se una volta dentro è quanto mai difficile uscirne. Così circa 10-12.000 anni fa, dapprima in Medio Oriente, e poi via via in Cina, in Messico, nelle Ande, in Nuova Guinea e nell'Africa subsahariana, fanno la loro comparsa, indipendentemente in ciascuna regione, l'agricoltura e l'allevamento. Questo vuol dire innanzitutto che da allora l'uomo, per vivere, trasformerà la natura. Non saranno più, o non solo, i fattori fisico-climatici a modificare l'ambiente naturale. Adesso diventa sempre più centrale il lavoro dell'uomo, che trasforma e modella la natura, mediante l'ampliamento delle radure, la creazione di campi coltivati, la deforestazione, i luoghi adibiti al pascolo, come anche con la costruzione di villaggi stabili, recinti per gli animali, e via dicendo. Nasce così il paesaggio, anche se la sua centralità e la sensibilità verso di esso sarà una caratteristica della cultura moderna e contemporanea, grazie, tra l'altro, alla pittura di paesaggio. Come scriverà Marx, che l'uomo viva nella natura significa la natura è il suo corpo, con cui egli deve restare in continuo processo per non morire. L'uomo dunque comincia a selezionare, a coltivare quelle specie vegetali che gli permettono di nutrirsi. Si tratterà di una o più specie, di poco più di una manciata di piante. Il grano, l'orzo, il miglio, il riso, il sorgo, il mais e la patata. Ciò comporterà, a lungo termine, una drastica riduzione della gamma vegetale del nostro pianeta. Nel contempo, gli animali saranno asserviti e sfruttati non solo come cibo, latte e carne, e per il fabbisogno di pelle e di lana, ma anche nella produzione agricola, appunto, come forza motrice, mentre i loro escrementi diventeranno concime. Comincia qui quel processo che porterai ai giorni nostri la massa degli animali domestici ad essere di molto superiore rispetto a quella degli animali selvatici. Se ci limitiamo a considerare i soli vertebrati, gli animali selvatici costituiscono attualmente in tutto il pianeta meno del 3% della biomassa totale. Viene da chiedersi ma di che cosa stiamo parlando quando parliamo di animali e di natura selvaggia? A seguito di questi radicali cambiamenti si svilupperanno durante il Neolitico numerose patologie legate sia al lavoro agricolo, l'artrosi, sia al cambiamento di alimentazione, le carie, ma anche malattie letali oggi caratteristiche degli esseri umani come il vaiolo, l'influenza, la peste, la tubercolosi, la malaria, il colera, il morbillo. Ecco, tutte queste malattie hanno avuto origine dalla promiscuità uomini, animali. Non che precedentemente non esistessero, ma non c'è dubbio che il concentrarsi della popolazione in determinati territori abbia dilatato e reso endemica in certi casi la loro permanenza, oltre che essere la causa del diffondersi di epidemie. Riprendendo una suggestione di Jared Diamond, poniamoci una semplice domanda. Che cos'è un campo coltivato? Ebbene, è un appezzamento di terra in cui una specie diventa il 90 e non lo 0,1% della biomassa totale. Questo permette all'uomo di procurarsi un numero di calorie per etero assai maggiore rispetto a quanto era possibile per un cacciatore raccoglitore che si muoveva nella terra vergine. ma è anche l'inaugurazione di un nuovo stile di vita con una dieta più monotona. In questo modo l'uomo riesce a dare sostentamento ad un numero più grande di individui e le donne partoriscono più spesso. Tra un figlio e l'altro infatti presso i cacciatori raccoglitori devono passare almeno 4 anni in quanto una donna nomade non può spostarsi portando in braccio più di un bambino e si deve dunque dare il tempo al piccolo di crescere e camminare da solo. I sedentari invece possono ridurre il tempo che intercorre tra la nascita di un figlio e l'altro a circa due anni il che significa che possono moltiplicarsi ad un ritmo assai più elevato. ma vuol dire anche che la donna assume una posizione subalterna nella società. Più in generale occorre sottolineare che nel neolitico si assiste alla prefigurazione perlomeno di quella che sarà chiamata più tardi la proprietà privata ma si assiste anche alla divisione del lavoro e alla conseguente stratigrafia e rigida gerarchia sociale con la netta differenza tra chi comanda e chi obbedisce tra i pochi che vivono bene e i molti in condizioni di povertà. Condizioni visibili nell'urbanistica e nell'architettura del neolitico il villaggio permanente lo sviluppo della necropoli il differenziarsi delle abitazioni e delle tombe a secondo del ruolo sociale di ognuno la società dei cacciatori e raccoglitori era tendenzialmente più egualitaria al suo interno anche se occorre essere chiari su questo punto non dobbiamo farci grandi illusioni a proposito degli esseri umani come scrive Yuval Harari noi possediamo la poco simpatica distinzione di essere la specie più ferale che esista negli annali della biologia e questo secondo diversi indizi fin dalla comparsa di Homo sapiens nel neolitico tuttavia le regole comuni si fanno più ferre perché si fa strada a quella che sarà come vedremo una struttura complessa che raggruppa gli individui e tende a costituirsi come entità autonoma produrre più cibo fa sì che nascano figure sociali non direttamente impegnate nell'agricoltura e nell'allevamento e che dunque possano dedicarsi ad altre attività come il sacerdozio la gestione della comunità quelli che saranno gli uomini politici o l'artigianato si pensi allo sviluppo nel neolitico della ceramica ad esempio ma anche dei gioielli e delle armi che fomentano le guerre le tecniche daranno vita non solo a nuovi strumenti per lavorare la terra ma anche a costruzioni come pozzi dighe sistemi di irrigazione e ancora la metallurgia e le innovazioni nel campo dei trasporti con l'invenzione dei carri con le ruote l'invenzione della scrittura poi circa 5.000 anni fa in Mesopotamia è il momento decisivo in particolare la scrittura alfabetica o fonetica avrà origine in Fenicia intorno al 1500 avanti Cristo e designa come dice Hegel nell'enciclopedia suoni che sono essi stessi già segni e quindi consiste di segni di segni aus zeichen dar zeichen con la scrittura diventa possibile ordinare ricordare calcolare organizzare progettare ma sarà molto più di questo perché la scrittura fonetica come scrive Jacques Derrida nella grammatologia sarà l'ambito della grande avventura metafisica scientifica tecnica economica dell'Occidente e questo in tutti i sensi quanto ho cercato di delineare a grandi linee è il fatto ma possiamo fermarci qui senza limitarci ai solidati che del resto in generale sono difficilmente confutabili è possibile considerare l'avvento dell'agricoltura in un contesto più ampio di una visione leggermente diversa passo al quinto sviluppo come la domus per bonveniste la città non è soltanto un'entità materiale in rapida espansione o viceversa in declino considerati dal solo punto di vista della crescita economico-funzionale e del sovraffollamento come ormai certa urbanistica già abituati a pensare comprendere la città significa penetrare un'idea un modello concettuale e dunque un modo di pensare un progetto un'organizzazione uno sviluppo tutta una teoria e una pratica più o meno coscientemente condivise che si diramano in molteplici direzioni le cui conseguenze non sono completamente prevedibili né anticipabili niente va da sé con la città non vi è nulla di naturale in essa anche se si parla in continuazione di piante cittadine di tessuti urbani e organismi territoriali piuttosto la nascita di una città è sempre città che sale per utilizzare il titolo del dipinto di Boccioni in quanto è innanzitutto una presa di distanza rispetto ad una territorialità vale a dire ad un rapporto uomo ambiente codificato che la città comincia a mettere in discussione scompaginare scardinare si pensi per esempio ai primi insediamenti specie nel Lazio che come abbiamo visto la volta scorsa partono dell'ampliamento di una radura naturale e continuano attraverso opere di disboscamento e di addebbiatura seguendo ritmi programmi schemi modalità di valutare e di operare implementati da sacerdoti e da autorità civili per questo Josef Reichwert può scrivere che la città antica assomiglia a un sogno e che il suo stesso approccio ai resti della città dell'Occidente romano non può che richiamare l'analisi onirica c'è tutto un inconscio che precede e accompagna la fondazione di una città di cui gli scavi archeologici sono il contenuto manifesto capace tuttavia di chiarificare solo in parte un contenuto latente che ostinatamente si sottrae ad ogni interpretazione che voglia considerarsi esaustiva inoltre qui sogno vuol dire anche l'immaginazione la proiezione fantastica la spinta senza di cui nessuno avrebbe mai cominciato a erigere una città senza dimenticare che questo non riguarda soltanto gli uomini intesi come una pluralità dispiegantesi nel tempo e nello spazio ma più o meno direttamente anche gli altri enti tutti gli altri enti con tutto ciò che comporta il divenire solo in parte controllabile dei tempi lunghi dei grandi numeri dei flussi degli incontri inaspettati e delle conseguenze impreviste ogni città che nasce è insieme una decodifica e una ricodifica per questa ragione la storia antica cominciava con la fondazione della città a burbe condita ciò che era prima era come risucchiato dal vortice dell'inizio che con il tempo si stabilizzava trovava un suo ritmo ed era la storia in altre parole un immane di spiegarsi per poi raccogliersi e ripiegarsi innanzitutto in una topografia più o meno definita con distribuzioni frazionamenti aggregazioni spartizioni lottizzazioni differenze che regolano definiscono localizzano diverse modalità di abitare di lavorare di divertirsi di vivere di partecipare di rapportarsi non soltanto degli abitanti fra loro o tra l'autorità e chi ne dipende o nel caso estremo e dirimente nel rapporto con le altre città limitrofe e con lo straniero ma della stessa città con quanto la circonda vale a dire con la campagna e finalmente con quello che resta al di fuori di tutto questo la natura selvaggia Deleuze e Guattari indicano questo movimento con i termini opposti e complementari di deterritorializzazione e riterritorializzazione la città nell'antica Grecia fa del territorio la distanza misurabile e ampliabile in cui gli scambi e le compravendite possono aver luogo così come lo Stato valuta considera e calcola quelli che sono dei terreni agricoli locali inserendoli in una struttura unitaria che li lega li ordina li sovrasta geometria della città aritmetica dello Stato extensio politica espatium imperiale in questo senso la città e lo Stato scrivono ancora Deleuze e Guattari operano una deterritorializzazione vanno cioè dal territorio alla terra in quanto la terra è deterritorializzante e deterritorializzata si confonde con il movimento di coloro che abbandonano in massa il proprio territorio città e stato dunque sono delle linee di fuga rispetto al territorio da cui si allontanano ma questo movimento non è distinguibile dall'altro per cui la città si scioglie dal contado assume una posizione prominente si eleva facendo perno sull'agorà nonché sistematizzando il commercio e l'attività mercantile in reti e filiere come d'altronde lo Stato si sostituisce ai gruppi di potere alle compagini alle fazioni diventando il padrone del territorio tanto che ogni localismo ne dipende e gli è sottomesso ed è così che nel mondo miceneo tutto ruota intorno al palazzo ossia come dice Oswin Moray al centro di raccolta e accumulazione di prodotti agricoli beni di consumo e armi città e Stato allora riterritorializzano vale a dire passano dalla terra al territorio deterritorializzazione e riterritorializzazione di cui il territorio e la terra sono le componenti sono due zone di indiscernibilità ossia che non possono essere distinte e percepite separatamente tantomeno c'è priorità cronologica tra queste due zone devono essere pensate insieme alla deterritorializzazione in un punto si accompagnano altrove in altri punti le riterritorializzazioni e viceversa per questo non credo sia utile radicalizzare la dicotomia tra città e campagna stato e assenza di stato agricoltura e nomadismo civiltà e natura non c'è mai opposizione semplice isolando un polo lo si ipostatizza e si rischia di restare all'interno della stessa logica che si intende combattere guardare indietro non serve il primitivismo la nostalgia verso quanto c'era prima l'oppure radicalmente l'incontaminato e il contaminato separare la natura selvaggia dagli ambienti inquinati in cui viviamo fanno parte del problema e sono figlie di un'illusione che inevitabilmente manca la realtà e fiacca ogni capacità di intervento e a partire dalla fondazione della città antica dunque che pongo il problema se l'agricoltura all'alba del neolitico sia di per sé l'evento la rivoluzione come si dice di cui certo non voglio in alcun modo limitare la portata ma che inquadrerei meglio all'interno di una modalità di pensiero più ampia e articolata che investe ad un certo punto della sua storia l'umanità e nella quale siamo ancora in gran parte compresi e che costituisce anzitutto e determina più o meno consapevolmente le nostre modalità di rapportarci al pianeta all'ambiente e ai cosiddetti enti non umani sospinti spesso se non esclusivamente dalla pulsione a guidare sottomettere dominare sesto sviluppo cerchiamo di esplicitare questa idea seguendo il mito della fondazione di Roma da parte di Romolo vedremo come questa leggenda tra le molte altre che iniziano dalla fine della guerra di Troia ripresa e rielaborata da diversi autori tra il secondo secolo avanti Cristo e il primo secolo dopo Cristo a partire da una messe di leggende sia greche sia italiche e a che ha come scopo dimostrare l'origine divina della città e dunque la sua legittimità a dominare ecco vedremo come tutto questo abbia molto da dirci su come si costruisce uno spazio a partire dalla resa operativa di alcune opposizioni basilari insisterò soprattutto a mettere in luce quelli che chiamerò dei passaggi traopposti finalizzati a raggiungere sfiorando il caos una stabilità che infine innesterà un nuovo ordine non occorre ripercorrere tutta la vicenda mi soffermerò su alcuni punti salienti all'inizio vi è la scelta del sito in cui fondare la città non sarà particolarmente salubre e posto in una posizione particolare come più tardi raccomanderanno di fare Ippocrate e Aristotele anzi la vicinanza del Palatino e del Campidoglio alla palude del Velabro mostra come non furono preoccupazioni di questo tipo a convincere i due gemelli Romolo e Remo infatti optano in linea generale per il luogo in cui sono stati trovati dalla lupa anche se come vedremo sarà la disposizione precisa su dove dovrà effettivamente sorgere la nuova città che farà nascere la controversia tra i due gemelli dall'esito drammatico l'animale l'animale la lupa li ha allattati sotto il fico luminale che è un fico selvatico e un uccello probabilmente un picchio li ha imbeccati tutto questo in prossimità dell'acquitrino e di una grotta il lupercale da dove poi il pastore faustolo li prenderà a sua moglie e li prenderà con sé per allevarli insieme alla moglie a Calarenzia tutto qui è l'insegna del selvaggio e del selvatico la vita dei due franciulli innanzitutto ma non solo la commistione neonati lupa è dell'ordine del prodigioso se non del mostruoso la grotta situata ai piedi di un'altura il germalo sulle pendici del palatino è dedicata a Luperco un antico dio che prende il nome dal lupo sacro a Marte da qui viene la festa dei Lupercaglia che si celebrava il 15 febbraio in cui tra l'altro durante una corsa purificatrice intorno al palatino i sacerdoti di Luperco i Luperci appunto colpivano con corregge di pelli di capro in particolare le donne per renderle feconde abbiamo così la lupa il monticello una divinità arcaica il luogo in cui sono stati abbandonati i due piccoli gemelli incapaci di badare a se stessi è la natura contaminata lontana nelle sue altezze dal consorzio degli umani regno di ambigue divinità primordiali e nel contempo sorgente di fecondità primo passaggio dunque dalla fiorente città di Alba Longa dove sono gli eredi al trono di Numitore Romolo e Remo vengono a trovarsi in una landa desolata dove gli uomini sono assenti o presenti soltanto per rapidi transiti in sporadiche e caute incursioni sopravviveranno la natura selvaggia non li ucciderà e questo è già un segno del carattere sacro della futura città di Roma che uno dei due gemelli fonderà i gemelli decidono di risolvere la contesa affidandosi agli uccelli augurali la famosa inaugurazio inaugurazio avvoltoi in questo caso che tra le altre cose non danneggiano ciò che gli uomini seminano piantano pascolano dice Plutarco scruteranno il cielo dalla sommità di due colli diversi Romolo si apposterà sul palatino Remo sull'Aventino e lo faranno al modo degli auguri che tracciavano uno schema una forma con cui dividevano mediante gesti e formule il campo visivo che si apriva tutti intorno a loro e poter così contemplare osservare questo luogo era il templum Vince Romolo che dice di aver visto dodici avvoltoi mentre Remo precedentemente ne aveva avvistati sei forsemente e inganna il fratello a Remo monta la rabbia e mentre Romolo scava il fossato con cui avrebbe circondato di mura la nuova città Remo lo deride lo intralcia nel suo lavoro finendo per superare il fossato con un salto Remo muore all'istante perché il fossato è un luogo sacro e inviolabile dicono le fonti che viene colpito dallo stesso Romolo o da uno dei suoi dunque Romolo uccide il fratello così come nella Bibbia Caino l'agricoltore stanziale lavoratore del suolo dice la Genesi ha ucciso Abele il pastore Nobane il pastore di Greggi per poi fondare anche lui una città che chiamerà con il nome del figlio Enoch la violenza fin'anno con la violenza omicida ma anche come si vedrà la violenza fatta alla terra agli animali per instaurare un ordine è parte integrante della fondazione della città e non soltanto per quanto riguarda l'istituzione materiale essa persiste infatti anche nello stabilire le istituzioni la sovranità la sovranità politica non ha bisogno soltanto di un despota ma anche di un legislatore in questo senso come ha mostrato Giorgio de Mesil l'azione di Romolo il primo re di Roma verrà portata a compimento dal suo successore Numa Pompiglia e per realizzare tutto questo l'ausilio degli dèi o meglio il patto instaurato con loro mediante il rito nonché una certa correlazione mortali immortali appare indispensabile dopo la sepoltura del fratello Romolo prosegue nella fondazione di Roma a tale scopo convoca dei sacerdoti etruschi che gli spieghino tutto quanto c'è da sapere circa i riti e le norme da seguire e che gli insegnino quanto dicono a tal proposito i testi sacri sempre Plutarco nella vita di Romolo dice osper entele tei come durante i misteri i libri in questione sono i libri taggetici e i libri vegojenses e riguardano i primi il modo in cui leggere i presagi come placare gli dèi e i morti nonché l'esame delle vittime e degli animali sacrificati in particolare l'epatoscopia la lettura del fegato da notare che questi libri prendono il nome da una divinità dall'aspetto di un bambino che tuttavia aveva il senno di un vecchio a proposito del quale Cicerone racconta si dice che un contadino mentre araba la terra nel territorio di Tarquinia fece un solco più profondo del solito da esso balzò su all'improvviso un certo taggete e rivolse la parola all'aratore l'intero suo discorso fu quello in cui era contenuta la scienza della ruspicina come vedete siamo in pieno dominio dell'agricoltura addirittura questa divinità questo demone dal volto dall'aspetto di un bambino ma con il senno di un vecchio esce direttamente da sotto l'aratro quindi siamo assolutamente all'interno di un mondo in qualche modo dominato dall'agricoltura il secondo gruppo di libri invece come racconta Festo vertevano sull'interpretazione dei fulmini nonché sui riti con cui dovevano essere fondate le città sulla venerazione delle mura sulle norme riguardanti le porte e ancora sulle distribuzioni delle tribù delle curie delle centurie insieme alle norme riguardanti gli eserciti ecco il secondo passaggio per procedere alla fondazione di Roma Romolo deve farsi educare e diventare una sorta di iniziato ai misteri il minimo che si possa dire è che il suo carattere selvaggio ha da essere in qualche modo smussato regolato non che la prepotenza sia eliminata quanto piuttosto incanalata disciplinata in vista di un assetto superiore se prima era caotica ora sarà ordinata a un fine in particolare sono questi gli atti compiuti da Romolo egli scava una fossa circolare che ha lo stesso nome del cielo mundus quindi con un aratro dal vomere di bronzo trainato da un bue e da una vacca oppure da un torello o una giovenca secondo delle fonti animali si badi che verranno sacrificati dopo aver portato a termine il loro lavoro traccia il perimetro della città con un solco profondo il sulcus primigenius dove sorgeranno le mura di Roma nonché il pomerium che come dice Rickbert era una striscia di terreno posta all'interno del muro rituale la cresta riportata dall'aratro inoltre in prossimità dei punti dove le porte avrebbero interrotto le mura l'aratro fu sollevato per non solcare la terra contrariamente alle mura infatti le porte non erano ritenute sancte dai romani in quanto attraverso di esse sarebbero entrate e uscite cose necessarie e tuttavia impure come i cadaveri ora limitiamoci a queste poche considerazioni fra le tante che si potrebbero fare il mundus forse appunto è stato in qualche modo proposto che la grande domanda è dove Romolo abbia situato il mundus probabilmente qualcuno dice che il mundus fosse connesso col decussis ossia quell'incrocio tra il cardo e il decumanus maximus quindi un posto assolutamente di rilievo all'interno della della futura città ma che cosa era il mundus era la fossa ricoperta da una pietra detta manalis lapis la pietra la pietra dei mani ossia delle anime dei defunti che verrà aperta poi solo tre volte l'anno e si dirà allora mundus patet il mondo è aperto era sia un buco riempito di primizie e di zolle di terra appartenenti alla madrepatria dei fondatori della nuova città sia una fossa consacrata a cerere la dea romana della terra e della fertilità collegata con i morti e le potenze infernali in antico infatti vi era una stretta correlazione tra ciclo vegetativo e mondo dell'ultretomba a loro volta le mura delimitavano la città istituendo un dentro e un fuori mentre le porte erano il luogo di passaggio che permetteva la comunicazione o la separazione fra i due spazi dunque Romolo istituisce con il mundus una separazione e insieme un collegamento tra mondo dei vivi e mondo dei morti tra il presente e il passato fra ciò che sta sopra e ciò che sta sotto la terra con il pomerium invece è la dimensione orizzontale ad essere ordinata in quanto esso è la linea sacra che separa la zona religiosa dall'ager publicus le mura infine hanno a che fare con un altro tipo di verticalità diversa da quella del mundus la quale come si è visto andava dalla superficie al profondo le mura infatti erano costruzioni innalzate verso l'alto che dunque mettevano in comunicazione la terra con il cielo questo le faceva inviolabili e ne garantiva la funzione di protezione e di sicurezza ribadisco che quanto detto lo si deve comprendere all'interno di un rapporto fondativo con gli dèi assicurato dal rito costellato da presagi e vaticinazioni rafforzato e consolidato indefinitamente dai sacrifici lo strumento che permette l'istituzione di confini tra differenti ambiti in cui si dispone costituendosi un mondo è l'aratro ossia l'elemento maschile di quella ierogamia l'aratura appunto che nelle culture antiche aveva il suo correlativo femminile nel solco quindi nella terra si noti che nella leggenda di Roma l'aratro viene utilizzato non per arare in vista della semina quanto piuttosto per segnare un solco a partire dal quale sorgerà la nuova città non dimentichiamo poi che quella solcata dall'aratro è una linea retta che non esiste in natura è dunque il caso di dire riprendendo Deleuze e Guattari che fin dai tempi più antichi fin dal neolitico e anche dal paleolitico è la città che inventa l'agricoltura sotto l'azione della città l'agricoltore e il suo spazio striato si sovrappongono al coltivatore nello spazio ancora liscio al coltivatore transumante semisedentario o già sedentario scrivono Deleuze e Guattari insomma dirimente non è tanto la contrapposizione nomadi sedentari come insistono molti ricercatori contemporanei e non solo bensì una certa razio assai più articolata e complessa altro termine per indicarla è stato se come scrive Pierre Clastres l'apparizione dello Stato ha operato la grande divisione tipologica tra selvaggi e civilizzati ha inscritto l'incancellabile cesura di là dalla quale tutto è cambiato perché il tempo è diventato storia ebbene per quanto paradossale possa sembrare non è l'agricoltura che inventa la città è piuttosto avere il contrario è la città è lo Stato ossia più esattamente è quel piano di pensiero astrazione virtuale o schema traducentesi in forme concrete sempre diverse che organizza in un certo modo caratteristico e irriducibile alla sola apparizione dell'agricoltura il rapporto fra il territorio e la terra questa sorta di presupposizione implicita latente predispone gli spazi crea gerarchie e assegna a ciascuno il suo gli dei e i sacerdoti innanzitutto e quindi gli uomini divisi da prima tra vivi e morti e poi tra i vivi in uomini e donne chi comanda chi ubbidisce abitanti della città e coloro che vivono fuori della città con tutte le suddivisioni sociali che conosciamo i politici il clero gli scrivi gli artigiani i contadini e gli allevatori senza contare le divisioni all'interno del mondo vegetale pianti utili coltivabili e selezionate da una parte e pianti inutili se non infestanti dall'altra del regno animale a differenza fra animali domestici e animali selvatici nei campi coltivati e incolti e in generale tra estensioni e ambienti diversi è un intero mondo che si dispiega un mondo che per molti aspetti è ancora quello che abitiamo ma ciò non vuol dire che in questa logica di composizione separazione e dominio non si aprono dei luoghi di resistenza di dissenso e di lotta spesso in modalità inaspettate e impreviste vi ringrazio grazie grazie grazie